Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi non sono a casa mia come potete vedere, sono in Croazia e sono nel residence che abbiamo affittato per le vacanze e volevo fare un home tour. Ovviamente sto registrando oggi con il cellulare, voi questo video lo vedrete sicuramente quando io sarò già ritornata a casa perché qui non ho il computer quindi non posso caricarlo perché col mio cellulare è impensabile. Però insomma volevo farvi vedere questa casa, volevo fare un home tour ma facciamo prima una cosa che di solito non faccio mai, vi faccio vedere il mio outfit perché ho indossato i pantaloni che avevo comprato un po' di tempo fa e che vi avevo fatto vedere in un video haul. Quindi cominciamo da quello e poi vi faccio vedere la casa. Cominciamo dalle scarpe, vi faccio vedere queste ballerine che indosso sempre quando sono in vacanza perché sono comode, insomma per andare al mare sono molto comode. Io sono un pochino imbranata col cellulare quindi ve lo faccio vedere in questo modo, sono davanti allo specchio, ho questo top sotto al costume, scusate perché stiamo andando al mare, comunque ho questo top molto semplice al quale avevo applicato io questi bottoncini tanto per colorarlo un po'. Poi vabbè ho questi pantaloni che vi dicevo che avevo comprato, che vi avevo fatto vedere in un video haul. Questi qua con il motivo in fondo così sembrano una gonna perché in realtà sembra una gonna ma in realtà sono pantaloni, vedete? E ho deciso appunto di provarli qui in vacanza e di vedere un po' come mi ci trovo. Ma adesso vi faccio vedere la casa. Questa è la camera da letto, abbiamo questo quadro così un pochino astratto, questo armadio che è scorrevole quindi secondo me è veramente molto carino. Adesso provo a farvelo vedere, scusate la mia imbranataggine con il cellulare per fare i filmati. Comunque questo è l'armadio che ha le porte scorrevoli, abbiamo messo tutta la nostra roba dentro, richiudiamo, lasciamo perdere perché c'è veramente disordine. E poi abbiamo ovviamente i comodini e una bellissima porta finestra che porta fuori sul terrazzo. Qui abbiamo una lampada un po' così particolare e andiamo nella zona cucina. Questa è la cucina, è molto piccola, molto minimale, però tutto sommato è abbastanza attrezzata. E poi c'è l'area salotto, qui c'è il tavolo, qui c'è questo divano col quadro così che secondo me dà un po' di luce carino, c'è il terrazzo laggiù e poi qui c'è un angolino con la televisione e due sportellini. Abbiamo il mobiletto basso, scusate il disordine ma insomma siamo in vacanza, abbiamo poco spazio quindi insomma abbiamo lasciato tutto un po' così ma almeno lo vedete vissuto. E qui si esce fuori sul terrazzo, è un terrazzo molto grande, spazioso, molto carino, c'è il tavolino e abbiamo questa vista. Non è vista mare però insomma comunque è abbastanza carino, tutto sommato è abbastanza aperto. Ecco finiamo questo video qua fuori sul terrazzo, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa casa, secondo me è carina per essere una casa di vacanza, insomma non ci vadano troppe pretese. Sento uno sfondo in tedesco quindi ritorniamo dentro altrimenti non riesco a salutarvi. Comunque vi invito come al solito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.